È un futuro diverso da quello che viviamo oggi e quello che vorremmo, tant'è che stiamo girando tutta l'Italia, 20 regioni, passando attraverso 300 piazze, 300 città che rappresentano in alcuni luoghi punti di eccellenza di produzione, in altri la rappresentazione di grande crisi. Ha toccato anche Arezzo il tour itinerante dell'UGL che sta attraversando l'Italia a bordo di un bus. L'occasione è data dall'imminente festa del lavoro e così il sindacato ha deciso di essere al fianco dei lavoratori con 30 appuntamenti che si snoderanno lungo tutto il paese e si concluderanno proprio sabato, primo maggio, a Milano. Questa è la diciassettesima tappa di Arezzo in un luogo, in un posto dove gran parte della filiera, quella legata all'accoglienza, al turismo, alla ristorazione, è venuta meno con i blocchi che ci sono stati per contrastare la diffusione del Covid. Questo è il paese che sta soffrendo moltissimo soprattutto in quelle produzioni che stanno scomparendo. Se considerate che l'Istat la settimana scorsa ha certificato o fotografato meglio 960 mila disoccupati in più. In un momento in cui è vietato licenziare e c'è la cassa integrazione anche alle aziende che l'hanno, vuol dire che hanno chiuso intere filiere, proprio quelle legate alla stagionalità, alla ristorazione, all'accoglienza e al turismo.